Musica Diciamo tanto dalla giuria specializzata che insieme sarà il vero protagonista abbiamo dato lo spazio abbiamo avverso questo spazio che ci sta afforciando a quella che è la categoria la categoria della acrobatica questo facitamente per gli aerei che è un'attropatia invitata dell'aeronautica generale ma che è un'attropatia invitata che è la mia memoria con la nostra presenza e l'ultima presenza di ora la porta aerodinamica che può sviluppare la macchina Sebastiano Argenti anche Sebastiano direi che un po' di applausi gli ha presi è un pilota che viene da Alessandria pensate che lui un po' non credo come secondo mestiere ha il videogioche all'interno della... è un'attropatia da Alessandria diciamo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.